Giorgio Dughetti parteciperà a questo campionato del mondo giovanile di calcio, ovvero il torneo di Vereggio. Una grande soddisfazione che oltre a te c'è solo Sorbo del Camaiore. Sì, è una bella soddisfazione, speriamo di far bene. L'importante era vincere oggi perché ci dobbiamo salvare e quindi niente, dai. Era l'ultima partita, poi c'è la sosta, l'importante era chiudere questa fase con una vittoria. Poi ho fatto anche gol, quindi sono contento. Due parole anche su Giancarlo Magrini, appunto il selezionatore del team di Vereggio. No, niente, che posso dire? Sono contento perché mi ha visionato e spero di riuscire a soddisfarlo al 100%. Solo questo. Lui ha creduto in me e spero di riuscire a ripagare la fiducia che mi ha dato.